Allora dovremmo titolare l'inizio di questo discorso con Maurizio sul calcio una fine settimana mostruosa perché l'Arezzo perde a Scandicci, c'era il famoso mostro di Scandicci ma c'è un bene che Ferretti è il nuovo presidente dell'Arezzo e sembra che ci sia tutta la voglia di risalire la china la parola a Maurizio Sì, hai detto benissimo, intanto partiamo dal calcio giocato, abbiamo il paese a Scandicci è una partita anche importante in chiama di salvezza purtroppo e dopo entriamo anche su questo argomento per quanto riguarda l'aspetto societario così speriamo quest'anno di finirlo e di finire di parlare di questo aspetto l'Arezzo sembra avere finalmente un impenditore solido come presidente questo Mauro Ferretti che dirige un'impresa di polizia di circa 1000 dipendenti così si dice perché non lo conosco personalmente sembra una persona, dico sempre sembra perché poi bisogna vedere all'opera, interessata al calcio aretino ha detto che riaprirà anche il discorso con Villaggio Amaranto che secondo me è il vero obiettivo e però questa tranquillità societaria finalmente speriamo che riesca a dare i suoi frutti anche dal punto di vista del calcio giocato Andiamo all'altro calcio che tu segui tutte le settimane Il calcio giocato? Io parlavo dell'Arezzo, ora ti parlavo della partita degli Scandicci Ah scusa perché pensavo che sull'Arezzo... No, voglio dire due parole sullo Scandicci la partita dell'Arezzo è stata una partita abbastanza equilibrata ha giocato su un campo come quelli di domenica appesantito dalla pioggia l'Arezzo ha preso un brutto gol per un errore difensivo poi non è riuscita a rimontare anche perché è stato espulso Bianchini in episodio un po' dubbio Il problema è un altro, indipendente dal punto di vista tecnico-tattico che questa squadra forse qualche miglioria da parte di Mr. Bacis ci dovrebbe essere soprattutto in mezzo al campo questo è un mio pallino però Mr. Bacis continua a giocare con questi due esterni larghi io voglio fare un po' di polemica perché siamo anche tifosi l'Arezzo continua a giocare sempre con due esterni Rubechini e Bozzoni talmente larghi da non servire diciamo di aiuto a centrocampo e neanche di assistenza all'attacco io vedrei meglio Rubechini quando sarà in campo poi la domenica è squalificato dietro le punte per cercare di essere meno prevedibili perché la posizione di Rubechini esterna a sinistra poteva avere diciamo un senso quando c'era Mencarelli ricordiamo Mencarelli è uno giocatore più forte di Arezzo che è infortunato mai da tre mesi che era un giocatore in fascia velocissimo che dava sempre la possibilità di avere la società numerica senza un Mencarelli dietro Rubechini andrebbe sfruttato centralmente per cercare di essere meno ripeto prevedibili mister Baci continua con questo modulo 4-4-2 che è un modulo sicuramente per lui affidabile la squadra si vede coordinata ma abbastanza prevedibile soprattutto sempre in sofferenza a centrocampo soprattutto per il fatto che lo scandisce un nostro diretto concorrente per la salvezza quindi sarebbe stato importante vincere cosa che ha fatto il Sansepolcro bravissimo anche perché domenica abbiamo lo scontro al comunale fra Arezzo e Sansepolcro il Sansepolcro ha vinto 2-1 in casa una partita molto difficile con la Pianese si è riportato in testa perché ha superato il Castellicone che domenica precedente l'aveva diciamo soppassato in classica quindi si presenta al comunale con lo scettro del comando soprattutto Arezzo purtroppo si presenterà a questo grande derby a retino senza ben 5 giocatori perché abbiamo Bianchini squalificato con Rubecchini e Pecorari e poi Zuppardo e Zulli infortunato e forse anche Martinez quindi una partita domenica importantissima per l'Arezzo con una formazione veramente rimaneggiata per l'altro calcio vado veloce faccio un punto in eccellenza poi un salto velocissimo in prima categoria in eccellenza molti sapranno sicuramente che Mecquedì si è giocata la finale regionale di Coppa Italia direttante dell'eccellenza fra la Baldaccio Blu Neanghiari e il Sandro Tavarnelle a Sinalunga era la partita valevole per il passaggio alla finale nazionale ha vinto purtroppo perché noi siamo a retini il Sandonato 5-4 a rigori e quindi Langhiari che ha ottenuto un grossissimo risultato arrivando in finale non ha potuto ottenere il passaporto per le finali nazionali che sarebbero sicuramente stati un filarocchiello è stata giocata in terreno neutro è stata giocata a Sinalunga e se pensi che io non mi interessa te sei bravissimo devo dire che i tuoi miglioramenti sono notibili a Sinalunga mentre nel Cascio di Serie A non ci capisce niente però sei migliorato nei direttanti per la prima categoria ieri mi hai mandato a Talla perché ieri altro mi hai detto vai a Talla a vedere Big Mesh dalla Marciano anzi dopo ti rimetto il conto per Gasolio è stata una bella partita giocata in un campo veramente impresentabile ma ecco finalmente ho visto una partita di prima categoria giocata molto bene fa due squadre organizzate e disposte in campo in maniera ottima ecco devo dire faccio i complimenti ai due allenatori Certini e Ruscio perché vedere una partita in prima categoria con certe giocate a decine di geometri non è sinceramente facile quindi sei contento che ti ho mandato a Talla? sono contento domenica va da resto sai perché ti ho mandato a Talla? ecco l'aspetto e perché andavi a Talla e vedere la tele di Tullo fatta da tele per il Talla ma sappiamo bellissima questa battuta fantastica ciao buongiorno buongiorno